I due nuovi santi indiani ci ricordano che l'amore di Dio è la fonte, la meta e il sostegno di ogni santità, mentre l'amore del prossimo è la più limpida manifestazione dell'amore verso il Signore. Con queste parole Papa Francesco ha salutato nella Basilica Vaticana i fedeli di rito Siro Malabarese, giunti nella città eterna per le canonizzazioni di Curiacose, Elias Chavara e di Eufrase e Lutigal. A tutti il Pontefice ha espresso viva gratitudine per la forza apostolica e la testimonianza di fede della Chiesa in India, in particolare in Kerala. Vi aiutino questi nuovi santi aggiunto a far tesoro della loro lezione di vita evangelica, seguite nelle orme e imitate nel modo particolare l'amore a Gesù e Eucaristia e alla Chiesa.